Il gioco è molto importante per noi, questo tipo di competizione è un po' strano. Lo scontro è stato duro. È stato ovviamente in particolare giocare in un palazzetto bellissimo, che secondo Raccovic è il più bello in Italia, ma ovviamente vuoto e questo ha creato un clima particolare. L'obiettivo era vincere, abbiamo vinto, andiamo avanti. Abbiamo lavorato molto duro questa settimana per prepararci a questa sfida, difesa, attacco, in particolare difesa, stare attenti, abbiamo ben però arreso e quindi questo sarà il lavoro che ci aspetterà anche per la prossima partita. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.